L'attesa per l'epico scontro tra Inter e Lazio sulla Gazzetta dello Sport è stata intensificata dalle acute osservazioni di Juan Sebastian Veron, una figura iconica che vanta il suo status di doppio ex giocatore, avendo vissuto le glorie di entrambi i club. In un'intervista esclusiva, Veron ha condiviso le sue profonde riflessioni sulla fase attuale dell'Inter, accendendo la passione dei tifosi nerazzurri e fornendo un'analisi ricca e dettagliata dello stato attuale della squadra. Veron ha esordito sottolineando la notevole evoluzione dell'Inter, sottolineando la presenza di nuovi talenti come Pavare Turam, che si sono sapientemente inseriti su una base già robusta. Iscriviti al canale per non perdere le ultime novità e metti mi piace al video se credi che nella partita di oggi l'Inter batterà la Lazio. L'ex giocatore ha sottolineato l'importanza della maturità della squadra, affermando che la continuità diventa più evidente quando i giocatori raggiungono un livello di maturità che fa fare un salto mentale. Esprimendo fiducia nell'attuale formazione, Veron ha riflettuto sulla possibilità che l'Inter superi la Juventus in campionato, riconoscendo la serietà della squadra e riconoscendo all'allenatore Simone Inzaghi il merito di questo significativo sviluppo. Il clima di credibilità e serietà che circonda l'Inter è accentuato nelle parole di Veron, che non si è limitato a parlare solo di campionato nazionale. L'ex centrocampista argentino ha rivelato che la visione della squadra va oltre la conquista della seconda stella, puntando anche alla gloria in Champions League. Veron ha condiviso il desiderio collettivo di tornare in finale e vincere il prestigioso torneo europeo, aggiungendo un ulteriore livello di ambizione agli obiettivi dell'Inter. Entrando nel dettaglio della prestazione dei giocatori, Veron ha evidenziato il centrocampo come uno dei punti di forza della squadra. Ha elogiato la complementarietà tra Barella, Cialanoglu e Mkhitaryan, ritenendo un reparto degno della ricca storia dell'Inter e delle grandi squadre che hanno brillato in Champions League. La sua analisi su Lautaro Martinez è stata piena di elogi, evidenziando la crescente risolutezza e la completa evoluzione del giocatore, cosa che, secondo Veron, non sorprende data la singolarità del suo talento. Ora ti invitiamo a condividere la tua opinione sulle acute osservazioni di Juan Sebastian Veron. Cosa ne pensi dell'analisi dell'ex giocatore sulla maturità della squadra, sulle ambizioni Champions League e sulle prestazioni individuali dei giocatori chiave? Inoltre, crede che l'Inter batterà la Lazio nella partita di oggi? Lascia il tuo commento qui sotto e... Forza Inter!